Il 21 agosto in Piazza Fenice ci sarà la presentazione della nuova squadra dell'Entella e sarà una serata dedicata alla musica, allo sport e anche alla solidarietà. Non sempre si può guarire ma sempre si può e si deve offrire la maggiore accoglienza e qualità di vita ai piccoli pazienti e alle loro famiglie. Questo è un motto che il Gaslini usa e il dottor Luca Manfredini, responsabile del guscio dei bimbi, è qui per parlarci appunto di questo. Il guscio dei bimbi viene definita una struttura residenziale di cure palliative pediatriche. È l'hospice pediatrico del Gaslini ma noi lo chiamiamo guscio perché nell'accezione comune l'hospice è dove le persone concludono un loro percorso. Noi al guscio invece progettiamo insieme ai genitori, insieme ai nostri pazienti un percorso. Noi ci prendiamo cura di bambini che non potranno guarire ma qui noi diamo la migliore qualità della vita possibile. Il guscio non è un luogo dove si finisce ma un luogo dove si costruisce una nuova realtà. I nostri bambini sono bambini purtroppo inguaribili, quindi bambini oncologici, bambini con patologie neuromuscolari, bambini con patologie neurologiche, con malattie genetiche, malattie congenite. Quello che la comuna purtroppo è l'inguaribilità dei bisogni assistenziali complessi del bambino e della sua famiglia, quindi dei fratellini, dei genitori, dei nonni, dei cuginetti e patologie che sono potenziali patologie a rischio di morte. Ecco quello che noi forniamo è come diceva il nostro motto, non la guarigione ma la qualità della giornata, la qualità della vita. Lei ci ha ricordato che l'attività del guscio è iniziata nel 2018, come è stata strutturata? Allora il percorso è un percorso che è iniziato decisamente molto prima, nel senso con una delibera della regione Liguria del 2014, subito fatta propria dall'istituto nel giro di un mese e di lì è iniziata la progettazione. Il guscio dei bimbi, mi piace ricordarlo, è una bella esperienza di interazione tra l'attività pubblica, l'istituto, la regione e l'attività privata. I fondi sono stati in gran parte dati da realtà private. Il progetto ci è stato donato da una fondazione, la fondazione Lefevre, che da 20 anni si occupa di cure palliative pediatriche e tante altre realtà hanno dato una mano alla costruzione pratica, comprese realtà anche del Tiguglio. Nel corso degli anni abbiamo costruito il nostro guscio, progettandolo non solo con gli architetti, con gli ingegneri, ma anche col personale del nostro istituto, nel senso che abbiamo fatto incontri per chiedere ai nostri colleghi quali fossero le esigenze dei bambini ricoverati e delle loro famiglie. Quindi è stato costruito proprio in modo sartoriale, in modo tale che calzasse rispetto ai bisogni dei bambini e delle famiglie. E poi nel 2018 abbiamo dato alla luce il guscio dei bambini che è stato inaugurato a novembre, ma abbiamo iniziato la nostra attività il 2 di maggio. Quindi ormai sono 15 mesi che diamo ospitalità e assistenza a bambini e famiglie. Come è l'organizzazione interna del guscio? Il guscio è una piccola struttura, un guscio prevede 4 mini alloggi dove vengono ospettati 4 bambini, con le loro famiglie, sono alloggi indipendenti, sono muniti di una piccola cucina, del frigo, del microonde, di un lavandino, in modo tale che siano molto più vicini a una struttura domiciliare, a un piccolo appartamentino, rispetto a una fredda camera di ospedale. Noi cerchiamo al guscio di dare un'impronta molto familiare. Di solito nei reparti l'attività inizia molto presto. Se noi non abbiamo problematiche di interazione con gli altri reparti dell'ospedale, noi non andiamo mai a svegliare i bambini. Alcune volte i bambini si svegliano alle 10, come spesso succede a casa. E quindi siamo noi che seguiamo i loro tempi, non sono loro che seguono i nostri. In assistenza c'è sempre un'infermiera e un operatore socio-sanitario, un medico. Abbiamo l'interazione con tante altre figure, abbiamo la psicologa, abbiamo il fisioterapista, la logopedista, tutti i vari consulenti e abbiamo l'interazione con gli educatori e i medici clown. Quindi la giornata è una giornata molto piena per i bambini, quindi non solo attività sanitarie, ma soprattutto un'attività che mira a fare crescere i nostri bambini. I nostri bambini devono crescere anche in una situazione così difficile. Di quanti posti disponete e sono sufficienti? I posti che noi abbiamo attualmente sono quattro posti. Purtroppo abbiamo una lista tesa, quindi avremo necessità di ampliare la nostra disponibilità e la nostra offerta di accoglienza. Per il momento cerchiamo di fare lavorare bene i quattro posti che abbiamo e questo lo facciamo anche grazie all'interazione con il resto del nostro istituto che su questo ci dà una mano. Lavorate molto anche sull'assistenza domiciliare? Sì, come dicevo all'inizio il guscio non è la parte conclusiva di un percorso, ma nell'80% dei casi è una fase di un percorso. È una fase di un percorso che parte dal reparto per acuti, dalla reanimazione, dalla patologia neonatale, dalla chirurgia, dalle varie medicine del gaslini e arriva al domicilio del paziente. Domicilio del paziente che se è nella città metropolitana di Genova seguiamo noi direttamente, il personale è un personale unico che ruota tra l'attività al guscio dei bimbi e l'assistenza domiciliare oppure può essere verso il domicilio all'interno di una casa della regione Liguria, noi apriamo le assistenze con tutte le ASL Liguri oppure addirittura abbiamo accompagnato bambini in domicili che sono lontani. Siamo arrivati addirittura ad accompagnare bambini in Sicilia, in Sardegna, in Campania, quindi l'attività è un'attività a 360 gradi. Ecco, io lo ricordo che durante appunto la serata del 21 in Piazza Fenice ci sarà una raccolta in collaborazione con Entella nel quale è il fondo Chiararama appunto a favore del guscio dei bimbi. Come prosegue il vostro lavoro da un punto di vista progettuale? Che cosa avete in mente? Ma quello che noi vorremmo offrire sempre di più ai nostri bambini è la possibilità di crescere. A differenza di quello che succede in altre realtà dell'adulto, il bambino è una cosa meravigliosa, è progettato per crescere e quindi quello che a noi serve è dare la migliore qualità della vita pensando che noi spesso accogliamo bambini piccoli ma che hanno un progetto di vita che è quello di crescere. Quindi aiutarli non solo dal punto di vista sanitario, non solo dal punto di vista sociale ma dal punto di vista educativo e psicologico. La parola speranza è il life motive della nostra attività. Noi dobbiamo offrire speranza sia ai nostri bambini sia alle nostre famiglie. Il guscio dei bimbi, il nome guscio dei bimbi viene fuori da un percorso che abbiamo fatto all'interno del nostro ospedale. Perché guscio dei bimbi? Il guscio è il carapace che protegge la tartaruga. La tartaruga, se non avesse il carapace, sarebbe un animale fragile. La tartaruga è un animale che vive per tanti anni e che si sposta e ogni giorno vive nuove avventure. Ecco, la nostra speranza è quella di far vivere nuove avventure ai nostri bimbi e alle proprie famiglie.